ci siamo teletrasportati mentre qua con un click ragazzi con un click abbiamo poco tempo ragazzi però proveremo a indagare un po di più c'è qualcuno a chi lo capire che si è buono ok ragazzi, scusate, sei qui? scusate, sei qui, perciò, fai rămâr oppure illumina questo oggetto strano, mai sentite questa parola, nelpite strano cosa? cosa è strano? completamente strano, si ho capito ma perché? spiegaci perché no ma stai dicendo a lui? di venire tocca il cancello illumina questo oggetto grigio per favore niente vuoi dire che non hai dubito niente non vuoi fare niente? ok, ho capito però voglio capire che sei qua quindi fai rumore porco cane questo sai cos'è? vuoi dire? ti ricordi quando siamo entrati? il vetro il vetro quando calpesti fa questo rumore è quello è quello è quello è quello il vetro è forte il vetro è forte cosa vuoi dire di venire? non lo sai neanche te neanche io raga il vetro è dentro non ci credo No, vabbè, quando dice queste cose, perché ha volto? Questa non è l'unica. Prima abbiamo detto il vetro dentro, memoria, sì sì, certo come lo ricordo. Tu eri con noi là dentro, giusto? Ti ricorda anche te? Perché, vedi, guarda, si mi ricorda, si ricorda. Si ricorda anche lui? Ti ricordi quel momento? Ha assistito, ha assistito anche lui, perché c'era anche lui. Che rumore è lì? Città? Il vede dentro là? Porcudì. Mi sono preso un corpo, ti lo giuro. Tu ci sono picchi, dai. Dai. Picchi. 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 No, no. Non lo so. Provocato, ti ricordi? Ma che rumore è? Manifestati. Manifestati. Fai qualche rumore. Fischia dentro il telefono. Indietro. In fondo. Basta, di dire basta, no. Abbiamo scoperto un po' di più. Però, l'ultima domanda. Come ti chiami? È un'anima. Non ci credo. Va bene comunque. Grazie mille. Molto. No, no. No. No, no. No.